Avrebbe fruttato almeno 3 milioni di euro il carico di marijuana intercettato venerdì sera dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile di Catania in un residence di Fondachello a Mascali. Una tonnellata alla sostanza stupefacente sequestrata proveniente dall'Albania. Sei le persone arrestate nell'ambito dell'operazione denominata Picanello Connection condotta dalla DDA di Catania. A finire in manette con l'accusa di traffico di marijuana aggravato dall'ingente quantitativo Angelo Morabito, Giuseppe Portale, Santo Russo, Antonino Napoli, Natale Pulvirenti e Girolamo Zappalà, tutti di Catania. Stamani i sei sono comparsi davanti al GIP di Catania Francesco d'Arrigo per l'udienza di Convalida. Gli arrestati erano già monitorati dagli investigatori che sapevano di quel grosso carico in arrivo ed avevano predisposto un attento servizio di monitoraggio. Quando il mezzo pesante ha fatto il suo ingresso nel residence di Fondachello, nella disponibilità di Giuseppe Portale, gli agenti hanno bloccato e arrestato l'uomo insieme a Natale Pulvirenti e Girolamo Zappalà. Pochi istanti dopo sono giunti anche Angelo Morabito, Santo Russo e Antonino Napoli a bordo di un furgone Fiat Scudo che sarebbe servito a spostare più facilmente lo stupefacente. Anche loro sono stati arrestati. All'interno del camion sono stati scovati, occultati all'interno di alcuni mobili 33 involucri in cellofan trasparente contenenti marijuana per un peso complessivo per l'appunto di circa una tonnellata.